Con l'incremento degli afflussi turistici nelle rinomate località catalane e galluresi, i finanzieri della Compagnia di Olbia e delle Tenenze di Alghero, Porto Torres, Palau e Santa Teresa di Gallura, coordinati dal Comando Provinciale di Sassari, hanno intensificato i controlli di competenza sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Oltre 150 le attività finora controllate, di cui una quarantina verbalizzate per irregolarità. Oltre alle predette attività di natura tributaria, le fiamme gialle hanno ulteriormente intensificato anche la prevenzione dello spaccio e uso di sostanze stupefacenti, soprattutto in relazione alla frequentazione delle discoteche e dei locali notturni della costa e della riviera del Corallo.